Un'altra domanda che fate spesso in questi giorni in mia mente è come risolvere la paura dei botti di capodanno del vostro cane. Purtroppo non c'è la bacchetta magica, non c'è una soluzione semplice, rapida e immediata. Anche qui ho fatto l'articolo, vi lascio lo screenshot e poi ne parliamo. Allora, innanzitutto non tutti i cani hanno paura dei botti, ok? Quindi, se avete un cucciolo o è il primo capodanno che passate con lui, non partite prevenuti, non è detto che abbia paura. Solitamente lo si capisce o si percepisce già se è un cane ansioso, pauroso, ovviamente la cosa potrebbe essere più probabile. Però se è un cane di quelli che tranquilli giocherelloni così, non è detto che abbia paura dei botti. Poi, bisogna distinguere, ci sono cani che hanno una leggera paura, quindi magari se ne stanno in disparte, cercano magari di stare nascosti, altri che hanno invece una vera e propria fobia, quindi rischiano di farsi male, diventare aggressivi, quindi è proprio un disagio fisico molto importante. Anche nel caso della paura dei botti di capodanno, ogni caso è a sé. Quindi, si cerca sempre di evitare i sedativi. Sono nocivi, possono avere gli effetti collaterali imprevisti, quindi il mio consiglio è non si utilizzano sedativi. A meno che non siate in una situazione di tale patologia comportamentale, in cui il cane mette a rischio la propria incolumità e la propria salute, e in accordo con il vostro veterinario, abbiate trovato questo escamotage. Ma non è la prima soluzione da adottare, ok? Perché tutti mi dicono, posso dare dei sedativi? No, non si danno dei sedativi così. Prima di tutto bisogna provare a utilizzare dei metodi non farmacologici. Se il vostro cane ha paura, sarete voi a dovervi adattare a lui, non viceversa. Non potete pensare a dare i sedativi e a lei andare fuori a festeggiare, lasciarli in casa da solo. No, se ha un problema, bisognerà che stiate con lui, stiate il giorno di capodanno, purtroppo, in isolamento, possibilmente con le finestre chiuse, la tv ha un volume magari un po' più alto in modo che copre il rumore dei botti, possibilmente in un luogo tranquillo, andate in montagna, andate in una zona isolata, in campagna, cioè passatevi il capodanno fuori dai centri abitati, perché esistono posti in cui il capodanno è tranquillo, ve lo posso assicurare, io ho una casa in montagna che non c'è un'anima, quindi vai tranquillo che i botti non li sente, e sarete voi a dovervi isolare col vostro cane, rassicurarlo e tenerlo tranquillo. Ovviamente l'ideale sarebbe la prevenzione della paura dei rumori forti, perché considerate che insieme alla paura dei botti va di pari passo anche la paura dell'aspirapolvere, la paura dei tuoni, quindi sono tutte fobie legate alla paura dei rumori forti. La prevenzione, la prevenzione è la finestra sensibile del cucciolo, quindi da quando ha due mesi fino agli 8-9 mesi, evitare che si spaventi col rumore dei forti e abituarlo gradualmente. Vi siete mai chiesti perché i cari dei cacciatori non hanno paura dei fucili e dei colpi d'arma da fuoco? Sono rumori belli forti, ma non hanno paura, perché sono abituati fin da piccoli a sentirli, quindi il concetto più o meno è lo stesso. Per il discorso dei botti di capodanno vi lascio invece delle domande la chat, così magari tutti voi, fra di voi, vi potete dire le varie soluzioni e stratagemmi che avete adottato per superare indenni la notte di capodanno. Quindi vi lascio qua e scrivetevi la chat che dopo vi scrivete fra di voi e vi confrontate sui botti di capodanno. Ok? Poi risponderò anch'io ovviamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.